E' stata inaugurata ad Eboli una spiaggia inclusiva. Si tratta di un lido che sorge in zona Campolongo, la cui particolarità è la totale assenza di barriere architettoniche. Si tratta di un progetto innovativo basato su un modello di fruizione multiutenza che include, oltre alle persone con disabilità, anche famiglie in situazioni di fragilità e organizzazioni associative, anziani, singoli e organizzati in gruppi, persone sottoposte a provvedimenti restrittivi presso enti e strutture di accoglienza, ma anche minori, famiglie in carico ai servizi sociali inseriti in progetti di tutela e di reinserimento sociale. Presente al taglio del nastro il sindaco di Eboli Mario Conte, il presidente della commissione regionale finanze Franco Picarone e il presidente della provincia Franco Alfieri. Oggi è una bella giornata, ma non solo dal punto di vista climatico, una bella giornata in tutti i sensi perché è anche con una certa emozione che oggi inauguriamo questo luogo, questo posto, questa bella struttura perché lo vorrei dire agli amici del comitato di quartiere quando abbiamo cominciato, vedo Pitore Alfano, la vedo tanti partecipare nel comitato, qui era un luogo destinato all'illegalità, alla droga, allo spaccio della droga, alla prostituzione e soprattutto era un luogo dove venivano sbessati i rifiuti. Oggi invece questo è un luogo dove c'è un grande lido, c'è un luogo dove possiamo accogliere i nostri cittadini, ma non solo perché questa è una struttura d'ambito, ecco lo vorrei ricordare perché l'operazione che è stata fatta, l'azione che è stata messa in campo è l'azione di Lassi insieme al Comune di Lievoli, quindi questa è una struttura, ecco perché la presenza qui anche di Franco Cimbre lo ringrazio perché io insieme agli altri sei sindaci dell'ambito abbiamo fatto qualcosa di veramente importante, di storico, cioè quello di aver creato l'azienda speciale che poi ha dato ecco il primo frutto, uno dei primi frutti di questa azienda e quindi vi ringrazio qui il direttore Ruzzolo e il presidente Quercio dell'Assi per aver, come dire, collaborato e dato una mano per fare in modo che questo video si costruisse e si realizzasse.